E manco da questo paese, volevo ringraziarvi per tutti gli anni che abbiamo passato insieme. Volevo salutarvi con questa frase e darvi la mia benedizione. Quanti litri di acqua santa si vorrebbero per pulire questo paese dal peccato. Io vi ringrazio per il periodo che qui ho passato e qui da Varsavia in collegamento vi ringrazio e vi do il santo sacramento.